Vedete lo scorrere dei secondi sulle lancette del mio orologio? È l'una in punto. Prima di farmi una bella pausa con un pranzettino veloce, vi dico che è incominciato il countdown. Quale countdown? Il countdown per l'annuncio del nuovo allenatore della Juventus. Abbiate ancora poca pazienza. La deadline è il 14 giugno 2019, ore 23.59. Oltretutto sarebbe meraviglioso perché io il canale l'ho creato il 14 di maggio del 2019, quindi festeggerei un mese in una maniera sublime. Ed ora vi saluto senza parole, ma con qualcosa che vi dovrebbe dare gioia.